Tre punti d'oro per il Sansepolcro che batte per 2-1 al Boitoni il Gualdo Casa Castalda del neotecnico Tifernate Federico Giunti. Succede quasi tutto nel primo tempo dove le due formazioni si sono affrontate a viso aperto regalando momenti di buon calcio ai tanti tifosi presenti in tribuna. La formazione di casa che potrebbe addirittura arrotondare il vantaggio nella seconda frazione di gioco ma il palo ferma una bella azione di Cappini. L'attaccante Biturgense commenta così una giornata sfortunata a livello personale ma di grande gioia per tutto il gruppo. E' andata così dispiaciuto un po' per i gol sbagliati comunque sia la vittoria arrivata l'importante era quello bisognava vincere per guadagnare ancora i punti in classifica e ci siamo riusciti abbiamo fatto una buonissima prestazione e sono contento per questo poi personalmente il gol non è arrivato però va bene lo stesso. Eh si sta sul calcio queste cose capitano di sbagliare tutta la partita però ripeto io la prendo così non mi demoralizzo e continuo a fare quello che chiede il mister e aiutare la squadra per arrivare alla vittoria. Soddisfazione anche nelle parole di mister Fani la sua squadra cresce di gara in gara e la classifica inizia a sorridere. Sì hai detto bene te nel senso che è stata una partita secondo me giocata a grandi ritmi si è visto bel gioco belle azioni capovolgimenti di fronte abbiamo costruito tanto sbagliato altrettanto potevamo dilagare ma allo stesso tempo comunque qualcosina abbiamo anche rischiato soprattutto nel primo tempo però devo fare complimenti alla squadra che oggi si è espressa a livelli secondo me importanti. Per il tecnico ospite Stefano Barchiesi il risultato tutto sommato è giusto anche se con qualche disattenzione di meno uscire con un punto dal difficile campo del Buitoni non era un'impresa così difficile. Sì devo fare complimenti ai ragazzi però sapevamo sapevo che comunque loro a centrocampo erano veramente sono numerosi sono giocatori con grosse qualità anche sulla fascia sono in grado di mettere in difficoltà ogni squadra con questi bei palloni messi dentro. Noi purtroppo con la difesa che non riusciamo mai ad avere la stessa abbiamo perso anche in centimetri per cui con la mancanza di Zanchi basta parlare di mancanze ma è vero comunque si era un po' in difficoltà. Faccio i complimenti alla squadra sia la mia ma soprattutto la loro che ha meritato alla fine poi la vittoria. Faccio i complimenti alla fine. Faccio i complimenti alla fine.